Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito i titoli di questa puntata. Seduta solenne del Consiglio per la Festa dell'Europa, fondo di solidarietà per la famiglia di Luana Dorazio. Si è svolta a Palazzo del Pegaso la prima seduta solenne del Consiglio regionale dedicata alla Festa dell'Europa. Molto importante, in realtà il giorno dell'Europa, sappiamo, è il 9 maggio e si sono susseguite tante iniziative che oggi trovano la loro legittimazione per la Toscana con la seduta solenne. L'Europa è il nostro punto di riferimento. Da un punto di vista anche concreto, nella percezione della gente, oggi che si parli di vaccino, è magari non troppo in positivo rispetto alle modalità con cui l'Europa ha fatto le sue contrattazioni a livello internazionale. O che si parli di recovery fund, qui veramente in positivo, perché la speranza della ripresa e della ripartenza nasce da questa iniziativa che partita con il protocollo sui 209 miliardi del luglio scorso firmato dal Presidente Conte diventa l'elemento per la ripresa, la ripartenza del nostro Paese. L'Europa è sempre più nelle case dei nostri cittadini e allora vale la pena vivere come la Toscana ospita l'università europea. Devo dire che sotto questo aspetto il prossimo anno saranno 50 anni, da quel 1972 quando esponenti che nel nostro Paese erano toscani avevano ruoli importanti. Penso a D'Avintore Fanfani, a Giorgio Lapira, vollero che fosse proprio nelle colline di Fiesole avere un'università che dalla Toscana fosse l'università per la formazione della nuova classe dirigente in Europa. O si parla dei rapporti che possono portare nuovi investimenti, come vi dicevo non solo del Recovery Fan ma anche del settennato dei fondi europei che parte proprio dal 2021 per arrivare al 2027, l'Europa è cruciale nella vita di tutti noi. Lo abbiamo voluto con forza e ringrazio il Presidente Gazzetti e tutti i membri della Commissione Europa per dare un segnale, un segnale importante. Oggi abbiamo sempre più bisogno di Europa e tutto quello che noi oggi diamo per scontato, il ruolo che ha giocato l'Europa in questi anni, un'Europa che è uscita dalla guerra più forte grazie alla capacità di persone che hanno creduto davvero a mettere insieme popoli differenti. Il manifesto di Vento Tene, Altero Spinelli, le parole di Schumann il 9 maggio 1950. Sono una rotta che noi dobbiamo provare a seguire sempre. L'Europa è luogo di opportunità, è luogo in cui le nostre ragazze e i nostri ragazzi devono costruire il loro futuro. Certo, l'Europa va migliorata, ce ne siamo resi conto in questi terribili mesi della pandemia e oggi questa iniziativa che ha avuto l'onore di aver presenti con la loro prolusione il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, e il Presidente Deuset danno il senso e il valore simbolico di quanto sia importante mantenere un legame forte tra la Toscana e l'Europa, di quanto la Toscana debba lavorare per essere sempre più un luogo in cui poter mettere a terra le tante iniziative che nascono a livello europeo. Una sfida che stiamo cogliendo, una sfida che non ha colori e connotati politici e una sfida per dare più risposte alle cittadine e ai cittadini della Toscana. La Commissione Europa è una realtà che era presente all'interno del Consiglio regionale da tempo. In questa legislatura è stata trasformata in una commissione permanente e quindi ha un ruolo e anche un peso politico sicuramente diverso. Tra l'altro questa trasformazione noi la dobbiamo grazie al lavoro proprio della precedente legislatura, a chi ha guidato e a chi ha collaborato ovviamente con il precedente Presidente. In questa nuova versione noi ci siamo dati degli obiettivi e soprattutto stiamo cercando di lavorare all'insegna di un clima che è un clima di cui io vado particolarmente orgoglioso e fiero, ovvero quello di una collaborazione e soprattutto una condivisione. Noi abbiamo portato a termine una proposta, una proposta di legge che è servita a istituire la festa dell'Europa in Toscana. È l'avvio di un percorso che è stato accompagnato anche da altri segnali, ad esempio l'inserimento prima dell'avvio delle sedute del Consiglio regionale e anche dell'esecuzione dell'inno europeo. Questo perché? Perché bisogna dal nostro punto di vista partire dai simboli per poi passare ovviamente a un lavoro quotidiano sulla grande concretezza delle opportunità che discendono dall'Europa. Perché è sotto gli occhi di tutti che le grandi prospettive legate al next generation, al recovery, passano proprio dalle indicazioni e dalle scelte fatte dal livello europeo. Con il Presidente Gazzetti abbiamo iniziato in questi mesi un lavoro che ci porta a dare il nostro contributo, a capire quelli che saranno i fondi, quelli che sarà la politica dell'Europa e noi essere presenti e testimoni di quelli che dovranno essere poi dopo gli investimenti che dall'Europa arriveranno all'Italia e di conseguenza verranno poi dopo riportati sulla Toscana. Per cui siamo al lavoro, abbiamo fatto tante audizioni, abbiamo ampliato le nostre conoscenze e speriamo nel breve tempo possibile di poter essere a disposizione dei nostri concittadini per poter dare il nostro contributo. Questo Consiglio regionale sembra voler prendere il tema dell'Unione europea più seriamente di quanto si sia fatto finora. Dobbiamo ricordarci che è importante che il rapporto con l'Europa sia sempre biunivoco, cioè l'Europa deve sempre avere presenti quelle che sono le situazioni delle singole regioni e questo rapporto di biunivicità deve essere anche propositivo, le regioni devono proporre. Io devo dire che finora la Commissione ha proposto questa festa, ma in realtà non c'è stata molta attività in più, ci sono state delle audizioni, la proposta che è stata fatta per il PNRR non è stata così forte come noi avremmo voluto, ma soprattutto c'è qualcosa che la regione toscana deve dire con forza, che l'Unione europea avrà senso se tutti gli Stati e tutti i cittadini di ciascuno Stato avranno pari dignità tra loro. Finché esisteranno le possibilità, come è successo nel caso della Germania, di poter avere o chiedere un numero di vaccini superiore per il proprio Paese, ecco questi sono i segni che fanno capire che l'Europa non è ancora quella che chiedevano Schumann e Spinelli, non siamo ancora quell'unione di Stati con quel senso solidaristico che dovremmo avere. È questo che la regione toscana, ma io dico tutta l'Italia, deve pretendere dall'Unione europea. Se saremo un'unione solidale avremo ragione di essere e daremo finalmente uno spirito nuovo a questa unione che comunque sia permesso in questi 70 e più anni di non avere più guerre all'interno del suo territorio. Questa sicuramente è una grande conquista. Durante la seduta sono stati proiettati due videomessaggi, uno del presidente del Parlamento europeo David Sassoli e uno del presidente dell'Istituto Universitario europeo Renaud Eus. Quest'ultimo ha sottolineato nel suo intervento il ruolo determinante che l'Unione deve svolgere nella lotta ai cambiamenti climatici. La pandemia non può essere una parentesi, ma deve essere considerata un'occasione per cambiare, per progettare insieme un futuro più giusto, con meno disuguaglianze. Non si tratta di recuperare le ricette del passato, ma di leggere con lenti diverse le sfide della contemporaneità. Non dobbiamo avere paura della complessità e non è più accettabile. Un'economia senza morale, uno sviluppo senza giustizia, una crescita a scapito delle generazioni future. In questo senso i Recovery Fund e il Next Generation EU rappresentano non solo la risposta europea alla pandemia e agli effetti che ha prodotto, ma anche una grande opportunità per realizzare nuovi modelli capaci di conciliare crescita e sostenibilità. In questo momento storico è fondamentale agire insieme. Questo è un altro campo in cui possiamo dire che senz'altro da soli gli Stati non ce la possiamo fare. L'Europa in tutto produce qualcosa come il 10% delle emissioni mondiali di carbonio. se dovesse fermarsi da un giorno all'altro nella produzione di gas carbonico, che sarebbe un miracolo, questo non risolverebbe per niente il problema del cambiamento climatico, perché togliendo il 10% della produzione non si risolve niente. Per cui, vedete, la nostra unica soluzione è non solo di trovare fra di noi le risorse politiche per un'Europa più forte, ma è anche di convincere quest'Europa che deve svolgere un ruolo preeminente a livello mondiale nella lotta contro il cambiamento climatico. La regione toscana manifesterà alla famiglia di Luana Dorazio, vittima di un incidente mortale sul lavoro, la propria piena solidarietà mediante l'immediata erogazione dei benefici previsti dal fondo di solidarietà. Lo prevede una mozione presentata da Marco Stella, capogruppo di Forza Italia e sottoscritta da tutti i capigruppo, che è stata poi approvata dall'Aula all'unanimità. Sì, tutti i gruppi all'unanimità hanno condiviso la proposta del presidente Marco Stella di dar vita ad una raccolta di fondi. È un gesto concreto, significativo. Poi a noi sta anche la responsabilità di contribuire nel quadro della normativa nazionale ad aumentare i livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro, perché le cosiddette morti bianche, veder morire una mamma giovane, una ragazza, ma anche altri che nelle settimane scorse hanno perso la vita, altri ragazzi per questioni legate al mondo del lavoro è insopportabile, è una responsabilità che ci portiamo tutti sulle spalle e che dobbiamo in qualche modo eliminare, nel senso che dobbiamo migliorare la normativa e quindi ridurre questi tragici eventi. Luana e le altre vittime degli incidenti sul lavoro sono lì a guardarci, a chiedere conto, a chiedere responsabilità e impegno. Il Consiglio regionale non ha lasciato cadere nel vuoto questo invito, ma ha voluto subito proporre una risoluzione condivisa da tutte le forze politiche che impegni la Giunta proprio a lavorare al rafforzamento degli strumenti di contrasto per quanto riguarda appunto il tema della sicurezza, quindi di rafforzamento della cultura, soprattutto della sicurezza, quindi molto da fare sul piano della formazione, su un concetto di sicurezza che non deve essere vissuto come onere, ma come investimento anche nella qualità della produzione che le nostre aziende portano avanti. A questo poi si affianca un altro strumento che è stato introdotto dalla precedente Giunta ed è un fondo di solidarietà per i familiari delle vittime, in questo caso c'è anche un bimbo di pochi anni al quale il Consiglio e la Giunta vorranno certamente non far mancare il proprio sostegno, quindi nell'abbracciare la famiglia, nell'abbracciare tutte le famiglie delle vittime, ovviamente vogliamo essere i loro vicini con atti concreti, non con la retorica che in questi momenti forse abbonda, ma con atti concreti che possono essere davvero di conforto, anche se minimo, ma di conforto per il dolore profondo che in questo momento i familiari stanno vivendo e a loro ovviamente va il mio abbraccio. Noi abbiamo firmato quella proposta e crediamo che in realtà, lo abbiamo detto e lo proporremo, questa debba diventare anche strutturale perché molte famiglie si ritrovano in forte difficoltà dopo aver perso un proprio caro sul posto di lavoro e crediamo che in questo caso la Regione debba andare a supporto di chi ha bisogno perché ci dobbiamo ricordare delle persone che non ci sono più, non solo nel momento in cui vengono a mancare, ma anche per il futuro di quella famiglia, per il futuro dei propri figli e cercare di dare sollievo a quelle famiglie che sono fortemente colpite. Abbiamo fatto un minuto di silenzio all'inizio della seduta, io credo che debba rimanere a nostra memoria tutte le volte che succede un fatto così grave e dobbiamo però anche trasformare in propositivo cercando di portare un contributo a chi ne ha bisogno perché purtroppo è stato colpito da un lutto che non riporterà indietro assolutamente chi non c'è più ma che deve dare una mano a chi deve guardare anche al futuro. Sì, una tragedia immane di una ragazza, di una donna, di una mamma, prima ancora di una lavoratrice. È una tragedia e come tale bisogna non soltanto ricordare, non soltanto chiedere maggiore sicurezza ma si deve poter fare qualcosa di più. È il motivo per il quale anch'io in prima persona ho firmato l'atto condividendo la proposta del Presidente Stella perché si possa fare qualcosa istituendo questo fondo e cercando di dare un contributo anche economico a tutti coloro che si trovano poi nelle condizioni di difficoltà a causa di un decesso di un proprio familiare e allo stesso tempo per contrastare ovviamente le morti bianche sui luoghi di lavoro. Questa era la nostra ultima intervista, cronache e commenti termina qui, appuntamento alla prossima settimana.